Ciao amici, buongiorno! Ho tre minuti, forse neanche, per fare la mia pausa. Didattica a distanza, smart working, varie classi, medie elementari. Sono sicura che le mamme all'ascolto sanno di cosa sto parlando. Niente di grave, niente di insormontabile, ma io voglio il mio amico, il mio alleato. Stamattina, in silenzio, che sono ancora tutti a lezione, mi preparo il mio cioccolato. Gluten free, senza latte, perché io non lo posso prendere, però ho veramente bisogno di una carica. Allora, io me lo faccio qua con voi, mi sono già preparata la mia tazza preferita, e ho veramente pochissimissimo tempo e sono anche abbastanza in silenzio per non farmi sentire da nessuno. Io vi do un bacio gigante e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito le dirette della sera, sapete che cerco di avere degli ospiti perché mi piace la compagnia e per intrattenere un po' anche le giornate che sembrano un po' tutte uguali. E io vado a permi il mio cioccolato. Ciao, buona giornata!